benvenuti alla nuova eh al nuovo appuntamento con chiacchierando con Italia accessibile questo pomeriggio il piacerissimo gigante di accogliere una pluricampionessa di atletica leggera paralimpica eh il cui curriculum è praticamente eh illegibile per quanto per quanto è lungo e per quanto è eh prestigioso quindi io lascio direttamente la parola a lei la ecco a voi la la grande signora della atletica leggera paralimpica Martina Caironi benvenuta Martina ciao grazie dell'invito eh sì siamo è un'intervista virtuale anche se siamo più vicine del solito e infatti dici dove sei sono nei pressi di Mondello non posso dire l'indirizzo se no qua arrivano i fan fuori casa non sto scherzando te ne ritrovi fuori dalla porta no figurati eh mi trovo qui da dal sedici di eh di dicembre quindi ho fatto qui tutte le feste visto che quest'anno era un anno un po' particolare e ci siamo conosciute di persona grazie eh alla pandemia io penso perché altrimenti forse avrei fatto anche scelte diverse quest'anno però sono felicissima di aver fatto questa scelta grazie mille vabbè diciamo appunto il il covid ci sta portando tante noie e tanti problemi però eh su questo diciamo ti do ragione che ci ha permesso di conoscerci comunque in in qualche modo quindi eh sono emozionatissima io per per prima da ad accoglierti diciamo nella nella nostra rubrica quindi partiamo subito dando la parola direttamente a te quei mh ti conosce il mondo intero però per quei uno due tre persone che non ti conoscono eh dacci una un'infarinatura di quella che insomma la la tua storia fai un po' un un'apertura di quella che la la tua storia sia sportiva che personale grazie sì vabbè non è vero che mi conoscono tutti perché insomma ci sono ancora tante persone tante porte a cui devo bussare per per farmi conoscere e magari per portare qualcuno nel mondo paralimpico e la mia storia è la storia di una ragazza normale normalissima eh di Bergamo io a diciotto anni faccio un incidente che mi fa perdere mezza gamba sinistra quindi mi risveglio e la mia gamba sinistra non c'è più dal ginocchio in giù subisco una disarticolazione di ginocchio e da quel momento scopro il mondo della disabilità eh in prima persona da ragazza giovane ragazza che vuole scoprire il mondo e dopo pochi anni entro contatto anche con il mondo paralimpico scopro che esistono degli atleti che careggiano con delle protesi particolari lo scopro proprio nel centro protesi di budrio vicino a bologna che è la città dove ora vivo proprio per questo motivo per la vicinanza ai vari centri protesi e mh e lì mi innamoro di di quello che è appunto un mondo che non conoscevo piano piano eh entro a contatto con le persone giuste che mi danno la prima protesi nel duemiladieci e mi iscrivono eh alle prime gare mh da lì non ho più smesso di cuore praticamente non ti sei fermata più no più che altro perché ho avuto anche tanti rinforzi positivi perché fin da subito ho notato di avere delle capacità che andavano sicuramente poi coltivate perché un talento ehm diciamo non coltivato non seguito può rimanere comunque diciamo non non può dare sempre i suoi frutti quindi ho capito che poi avrei dovuto anche metterci sicuramente del sudore dell'impegno e mh ed è stato un piacere farlo perché perché lo sport è qualcosa che che più lo fai e più ti fa stare bene secondo me e quindi niente questo in breve è quello che mi ha portato poi a vincere eh le medaglie anche più importanti eh che sono quelle della delle Paralimpiadi di Londra nel duemiladodici con eh i cento metri dove ho preso un oro e poi anche a Rio e poi ci sono stati ovviamente tutti i mondiali gli europei che ehm diciamo in genere non tutti citano perché chiaramente le medaglie più importanti sono quelle alle Paralimpiadi però di mezzo ci sono ci sono tanti intermezzi certo naturalmente sì tant'è che eh per esempio il mio record sui cento metri risale al duemilaquindici ad un mondiale nel duemilasedici alla Paralimpiade ho vinto comunque i cento metri e ho preso un argento nel salto in lungo ma eh come record è fermo al mondiale del duemilaquindici ehm e io non posso smettere finché non ritocco quel quel tempo lì capisci? Aspettiamo Tokyo aspettiamo Tokyo per questo diciamo che il duemilaventi insomma ha fatto saltare questo questo appuntamento importantissimo ma il duemilaventuno speriamo che almeno ce lo ce lo possa fare godere a tutti quelli insomma che aspettiamo come te questo questo evento e a proposito di movimento paralimpico c'è ancora tanto da fare però tanto comunque si è fatto a che punto siamo secondo te con eh la conoscenza a livello capillare di questo di questo movimento che riguarda soprattutto gli atleti paralimpici e quindi la lo sport e la disabilità. Beh sicuramente da quando ho iniziato io di passi avanti ne sono stati fatti eh ti faccio un esempio con la mia federazione che quando io ho iniziato eh comprendeva atleti eh di varie fasce d'età e ce ne erano mh c'erano pochi rappresentanti per ogni eh categoria funzionale quindi con disabilità diverse e eravamo in pochi. Adesso esiste la FISPES Academy per esempio che eh la FISPES significa Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali dentro cui appunto c'è anche l'atletica e questa FISPES Academy eh accoglie i ragazzi più giovani eh per crescerli e per appunto ehm creare poi i campioni del domani eh per noi questa cosa nel duemila o duemila dieci mh non c'era non c'era una preparazione specifica e non c'erano soprattutto dei campionati eh riservati a mh ai più giovani. L'unica manifestazione che c'era era per esempio ehm quella degli under ventuno che però non non rientrava nel circuito dell'IPC e si chiamava IVA World Championship esiste ancora ehm in quel caso lì comunque adesso sono sono cresciuti in più ehm ho visto un' attenzione maggiore da parte ehm dei media che ok non è tutto però è già qualcosa perché aiuta la la società in generale a percepire lo sport paralimpico ehm con un po' più di mh attenzione credibilità con eh anche un po' con più di realismo no? Mh senza focalizzarsi troppo sul eh il poverino che eh torna a fare sport ma eh sull'atleta che è mh ha le pari di a dovrebbe avere le pari dignità di un atleta normo dotato e mh chiaramente il il valore e il potere dello sport non è eh solo quello di creare grandi campioni e nonostante io sia ad alti livelli mi rendo conto che eh la maggior parte delle persone degli atleti sono quelli che stanno alla base e che ehm sono agli inizi o che magari hanno un livello che non arriverà a livello internazionale ma non importa perché l'importante è per la singola persona quello che fa quello che tenta di fare quello eh l'ambiente in cui si ritrova le persone con cui si confronta e c'è un valore aggiunto per chi ha una disabilità perché spesso lo sport è una un modo per ehm sdoganare la propria disabilità cioè per ehm togliersi questo tabù che alcuni ancora hanno che magari fanno fatica a mostrare ti faccio un esempio la il moncone in pubblico no? Per me quello fin da subito è stato un impatto ehm che che ho ritenuto necessario cioè andare al campo e cambiarmi la protesi da cammino e mettermi quella da corsa implica che tu ti devi togliere eh la la protesi e la cuffia esatto sotto la cuffia c'è il moncone quindi anche l'altro giorno quando eri al campo io l'ho fatto in maniera molto naturale perché è caduto il telefono. Il bello della diretta. Sì siamo un equilibrio precario qua e quindi sì insomma non non ci deve essere quella quella paura di mostrarsi perché insomma siamo fatti così e anzi io credo che proprio mostrandoci semplicemente essendo come siamo possiamo anche essere fonte di ispirazione per altri questo l'ho l'ho visto eh banalmente ti dico anche andando a fare la spesa con una gonna corta o anche in altre occasioni con pantaloncini insomma in cui la protesi si vede molto e le persone all'inizio rimangono scioccate però poi magari mi vengono a dire complimenti e io penso vabbè ma c'è complimenti di cosa perché ormai sono abituata no? Come se ogni volta ti dicessero complimenti per gli occhiali come tu mi dicevi proprio l'altra volta quando ci siamo incontrate mi dicevi tutta questione di abitudine quindi la differenza se così si possono chiamare le diversità si vedono eh è l'osservatore che le vede quindi non chi le vive di per sé perché magari ci ha abituato ha imparato a conviverci ma eh quello che è importante è che gli altri debbano abituarsi e debbano leggerle come anche loro come una quotidianità una normalità alla fine non è non è nient'altro che questo sì e poi eh anche senza sottovalutare comunque le esigenze che una persona con disabilità può avere in più rispetto a chi non ha una disabilità eh un esempio di buona civiltà è non occupare il posto per riservate disabili neanche in quattro mettendo le quattro frecce questo io lo specifico perché a volte uno se non ha un vicino una persona con disabilità non si rende conto che quel posto lì non deve essere occupato mai davvero perché a me è successo anzi mi succede ancora e magari soprattutto ci faccio caso quando eh sono in stampelle o sono in un periodo in cui la gamba mi fa male e davvero ogni passo è eh faticoso invece magari quando sto bene non non ci faccio neanche caso parcheggio nei parcheggi normali però ehm quando c'è qualcuno parcheggiato in quattro frecce che magari è andato a prendere il pane è andato alla posta io penso beh anche io lo vorrei fare in maniera comoda come l'hai fatto tu ma non lo posso fare e questo ehm è uno dei tanti esempi che che ti potrei fare ho a Bologna per esempio ho avuto anche degli esempi positivi perché non è che ci sono solo quelli negativi ovviamente e magari persone che sì che mi vedevano parcheggiare e indagavano visto che non si accorgevano della protesi vedevano questa ragazza magari giovane scendere e andare e mi fermavano della serie signorina mi faccia vedere cioè perché lei parcheggia qui e da un lato ti verrebbe da dire si faccia gli affari suoi dall'altro però è una forma di senso civico per cui eh il cittadino uno stesso si preoccupa di tutelare chi ehm in teoria ha più bisogno bisogno ha qualche difficoltà in più chiamiamola così diciamo qua mi mi lanci anche un'altra un'altra piccola pietruccia diciamo ehm quando eh hai parlato appunto del di quello che ti è di quello che ti è accaduto di quello che è la tua storia quindi eh un incidente e quindi una nuova una nuova realtà una nuova vita da da affrontare e oltre al discorso pratico quindi del del non avere più a disposizione una gamba diciamo così eh c'è una questione anche psicologica una questione appunto riadattativa di quello di quello che è una nuova di una nuova vita tu ad una ragazza un ragazzo che si trova ad affrontare questo tipo di eh nuova vita cosa cosa consiglieresti perché comunque sembra facile comunque parlare per chi non non lo vive ma tu che l'hai vissuto cosa gli diresti? Mh beh all'inizio eh è sempre il momento più delicato perché sei estremamente fragile hai subito un trauma e mh e quindi ognuno la prende in maniera diversa il carattere che uno aveva prima sicuramente eh aiuta nel senso rimane rimani alla fine quello che sei però ehm quello che io mh cerco di dire alle persone che mi è capitato di di conoscere è eh che c'è una seconda chance e che può essere altrettanto avventurosa bella eh interessante quanto la chiamiamo la prima parte di vita ok? Ehm devo dire che oggi ehm ci sono tantissimi modelli di riferimento abbiamo apri Instagram eh vai sulla pagina per esempio dell'azienda che produce le protesi e ti escono una serie di storie una dietro l'altra di di tutto cioè di persone che con le amputazioni gambe e braccia eh scalano eh fanno kite surf eh non lo so cantano ehm con delle protesi in vista vestiti da da rocchettari e insomma quindi anche solo il fatto che esistano dei modelli che che uno può vedere aiuta tantissimo io mi ricordo che nel semplicemente nel duemilassette che non è così lontano però eh quando io ho avuto l'incidente e dopo un anno e mezzo ho fatto questa tesina sulla diversità per la quinta superiore e eh in biblioteca non trovavo riferimenti pochissimi ne trovavo di riferimenti bibliografici proprio su eh le Paralimpiadi su qualcosa che potesse essermi di spunto e infatti avevo trovato il libro di Oscar Pistorius che era uno dei pionieri uno dei primi a ad aprire le porte a questo tema quindi adesso ehm non dico che io abbia poco da dire a queste persone però ehm sicuramente sono molto più avvantaggiati dal punto di vista proprio del dell'immagine che possono avere del loro futuro e quello che di solito dico per esperienza personale è di non eh stare in casa cioè di non fermarsi di non pensare che sia tutto finito e poi io credo che alla fine senza tante parole la il consiglio migliore sia l'esempio stesso cioè perché se io dessi dei consigli ma eh poi non non le mettessi in pratica io stessa non non varrebbero nulla se invece ti faccio vedere che esco vado a ballare con le mie amiche che ho le protesi eh dove attacco gli adesivi colorati ehm non lo so che uso la protesi come porta bottiglia in spiaggia eh o cose sì anche cose divertenti no ehm o sono sono fighissime tra le altre cose grazie sì è un modo poi dopo che uno ha per personalizzare il proprio ausilio perché almeno c'è chi lo vuole tenere neutro come te lo danno e c'è chi si sbizzarrisce insomma immaginati di avere la possibilità di cambiare tatuaggio ogni qual volta che tu voglia assolutamente certo perché no molto volentieri eh mi hai dato altre due altre due paroline magiche seconda chance è opportunità nuova opportunità eh lo scorso novembre ventiquattro novembre se non ricordo male è stata finalmente approvata una una legge che permette ai eh agli atleti eh paralimpici di poter accedere ai eh ai corpi militari tu sei tu appartieni alle fiamme gialle ormai da da diversi anni e quindi cosa rappresenta secondo te questa legge? È una nuova opportunità solo per le nuove leve per o anche per chi è già rodato e ha già una notevole esperienza? Sì allora questo grande obiettivo che è stato raggiunto solo quest'anno è in realtà il sogno che il presidente Pancalli sta portando avanti eh da anni forse anche più di dieci anni ehm perché forse non tutti sanno che eh per esempio se io sono nelle fiamme gialle dal duemiladodici e molti credevano che io percepissi lo stesso stipendio di un Filippo Tortu cioè di chi è è normodotato ed è all'interno del dei gruppi sportivi militari invece no noi eh siamo stati nei gruppi sportivi fino adesso solo come civili quindi solo come ehm come gruppo come atleti ok non eh non a tutti gli effetti questo comporta a parte uno stipendio che ehm non abbiamo avuto se non un rimborso spese anche poi la possibilità una volta finita la carriera di eh fare il concorso e rimanere a lavorare all'interno del corpo e mh questa è la grande differenza che eh ancora però dovrà essere ehm attuata nel senso che è passata la legge e e bisognerà vedere come applicarla perché comunque ci sono eh non lo so delle questioni burocratiche che sempre rallentano ma siamo fiduciosi siamo fiduciosi e poi eh anche a livello concettuale è un grande traguardo perché ehm ci riconosce ci riconosce al pari eh dei normodotati quindi l'opportunità verrà data sicuramente a a molti più ragazzi cioè un'altra novità è il fatto che verrà aperta ad un numero maggiore no di atleti paralimpici perché finora eravamo veramente pochi ci si poteva contare sulle dita di una mano invece adesso ci sarà un vivaio no ci sarà un numero maggiore e e qui e l'opportunità poi sarà anche per chi è dentro da da più tempo tipo per esempio nelle fiamme gialle ci sono io c'è Oksana Corso e e altri atleti che sarà Simone Manigrasso per esempio eh per quanto riguarda l'atletica e e noi eh se un domani eh anzi prima o poi succederà che smetteremo comunque di eh fare agonismo e vorremmo continuare la nostra carriera a questo punto ci verrà data una priorità e di questo sono super felice perché comunque è ehm per un'atleta è anche una un motivo anche di tranquillità perché dopo che uno dedica tanti anni della propria carriera della propria vita a fare sport eh magari non si sta costruendo nel frattempo una eh possibilità eh lavorativa per quando poi smetterà e invece così in questo modo assolutamente sì anche perché appunto è un chi lavora nello sport lavora perché effettivamente mh passa il suo tempo appunto tra allenamenti tra spostamenti tra è comunque una fatica è un lavoro vero e proprio quindi perché non non catalogarlo nello stesso modo come qualsiasi altra attività professionale sia maschile che anche femminile perché questa cosa si è un po' posta anche a livello femminile nel nel campo del nell'ambito olimpico comunque del professionismo eh professionismo normodotato se così non mi piace tanto utilizzare questo termine perché siamo alla fine non non c'è una vera differenziazione sia dobbiamo essere per prima noi a evitare di etichettare diciamo le le persone per semplicemente neanche classificazioni non mi piace utilizzare neanche le classificazioni però siamo abituati a usare queste queste utilizziamo però cerchiamo un po' di di annullarle da un punto di vista proprio della quando ci quando ci confrontiamo faccia a faccia in in questo senso un una cosa molto importante che con cui ho parlato con una tua collega e amica con assunta legnante la scorsa volta che lei ha espresso tante volte la il piacere diciamo quando terminerà la sua attività sportiva di poter insegnare qual è invece quando tu terminerai il più lontano possibile la tua attività sportiva cosa ti piacerebbe fare? Eh una bella domanda perché comunque io sto cercando in questi anni di eh arrancando di finire l'università mh che ho iniziato tanto tempo fa che riguarda appunto le lingue e mh sicuramente in questi anni però ho capito di avere delle capacità comunicative e mh quindi mi piacerebbe rimanere comunque in un ambito sportivo e sfruttare anche le le capacità che ho acquisito in questi anni magari come commentatrice sportiva eh non lo so eh magari sì come insegnante però io credo che in entrambi casi debba comunque poi ehm professionalizzarmi perché è vero sì che molta esperienza sul campo eh l'ho fatta e mh e magari appunto ho vissuto delle cose che eh che nessuno ha vissuto però è vero anche che ritengo di dover comunque studiare per quello che andrò a fare e sinceramente non non te lo so ancora dire perché finché non arriverà il momento io mi godo tutto quello che c'è e mi godo la mia carriera fino in fondo e anche in questa fase che la chiamerei la fase tre perché è verso la mia terza paralimpiade eh sento che di aver scoperto qualcosa di nuovo che prima non avevo scoperto quindi questo mi dà una motivazione per per andare avanti e visto che siamo sempre in cambiamento tutti quanti non si può mai dire assolutamente tu che cambiamento hai fatto recentemente a parte di quello del del posto che ti sei trovata dal nord a sud nel giro di pochi di pochi minuti beh il cambiamento di quest'anno sicuramente è stato ritrovarsi una pandemia alle porte e che bussava insistentemente e doverla a tener fuori dover cambiare le proprie abitudini eh dover rivedere le proprie priorità e e poi come vedi di conseguenza sono arrivata anche delle scelte io eh quest'anno sono ripartita con una motivazione maggiore che mi ha poi portato anche a pensare ad una preparazione invernale più mirata e più efficace quindi cercando un posto al caldo ed eccomi qua a Palermo con giornate di sole spettacolari e e con delle persone anche che che mi stanno seguendo in entrambi i campi dove dove sto andando sto trovando un'accoglienza grandissima e mai mi sarei aspettata di eh conoscere Palermo in questo modo perché c'ero stata solo mezza volta per per una cosa di di lavoro diciamo ma non l'avevo neanche potuta visitare quindi per me è stata una è stata ed è tuttora una una bellissima scoperta e grazie anche appunto al sosteguirsi delle delle vicende che ci sono state credo molto che ci voglia la progettazione ma che si debba un po' anche lasciar andare le cose come devono andare e a volte cavalcarle e essere pronti a a cambiare perché quest'anno ci ha insegnato anche questo che mh a volte è necessario non impuntarsi su una cosa che ci si era prefissati di fare perché se non si può fare non si può fare non si può fare basta e si bisogna farne un'altra assolutamente non non rimanere con le mani in mano diciamolo così cercare di tenere sia la mente che è il corpo per quanto possibile impegnati eh cambiamento un'altra un'altra voce sempre molto importante che che vorrei sviluppare diciamo negli ultimi minuti del nostro incontro eh tu hai diciamo due visioni quella del nord Italia e quella del sud Italia a livello di eh barriere architettoniche di possibilità comunque di rendere più accessibili le città eh non dico di fare un paragone ma c'è qualcosa che miglioreresti o cambieresti da entrambe le parti o solo da una parte diciamo ok beh allora non non ho ancora come dire tutti gli elementi perché non non è che posso conoscere tutto il nord e tutto il sud quindi mi viene difficile generalizzare eh io parlo magari delle strutture ehm sportive che ho visitato e devo dire che sia a nord che a sud eh ne ho trovate alcune accessibili e alcune no quindi non non farei una differenza in questo senso tra nord e sud se andiamo a vedere magari la città storica che ha un centro storico con i San Pietrini non so come li chiamate voi le le i sassi no le le per terra eh allora lì eh è chiaro che eh per me è più difficile camminarci per una persona in carrozzina è più difficile arrivarci eh però io mh diciamo eh focalizzerei di più l'attenzione su eh le le nuove costruzioni o su quelle che che devono essere adattate cioè è difficile cambiare un panorama storico una una città ehm con con delle delle architetture che che non sono accessibili però si può fare in modo di agevolare anche eh dal turista ma anche sicuramente e di più la persona che vive lì eh io ho girato a Palermo e con la mia protesi sono riuscita ad andare dappertutto eh come a Bologna come a Bergamo però è chiaro che se fosse in carrozzina le cose sarebbero diverse invece per quanto riguarda i il centro sportivo eh io l'ho trovato accessibile e ehm lo ormai lo noto perché è comunque per me le scale sono sempre faticose eh le le faccio però eh preferirei anch'io eh magari salire da una rampa magari scendere preferirei dalle scale non lo so comunque la noto l'importante è che per ogni ingresso eh per esempio eh anche allo stadio delle palme hai notato che da una parte ci sono gli scalini però da dietro si può entrare quindi l'importante è che almeno un accesso eh anche per chi eh magari le scale non le può fare e mh e l'appello sta a lo farei a a tutte le persone che si dedicano a questo cioè che si dedicano a eh alle infrastrutture perché poi nord o sud alla fine i disabili sono dappertutto quindi le esigenze eh sono sono le stesse e mh e quindi sì l'unica cosa che mi dispiace tantissimo di di vedere qua attorno è purtroppo la la spazzatura perché mi piange il cuore vedere dei luoghi così belli e anche con la semplice bottiglia di birra buttata lì mi verrebbe proprio da mettermi lì a raccoglierla perché è è troppo è troppo bello per cioè nessun posto andrebbe inquinato però è talmente bello qui che eh non so vorrei fare qualcosa e guarda rigiriamo rigiriamo ai alle istituzioni che ci che ci ascolteranno che vedranno questo questo video rigiriamo la tua la tua proposta e la tua richiesta perché è importantissimo sicuramente questa è una cosa che piange a noi è diciamo il tuo il tuo messaggio il la tua testimonianza diciamo è ancora più forte la sentiamo ancora più forte diciamo quindi un diciamo un un piccolo una una piccola un piccolo messaggio 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 un piccolo messaggio di di chiusura il messaggio un messaggio di chiusura visto che ormai siamo siamo entrati ormai ufficialmente nel duemilaventuno cosa sembra scontato ma cosa ti aspetti da da quest'anno e soprattutto adesso in vista di Tokyo del dei prossimi mesi allora è difficile crearsi delle aspettative dopo che tante sono state eh frantumate però eh l'aspettativa è che eh alla fine queste paralimpiadi le facciano in un modo o nell'altro anche con un pubblico fatto di robot non mi importa ma eh io spero tanto che facciano e questo lo sento anche come un anno in cui le donne eh più che mai saranno alla rivalta perché non lo so sento questa cosa nell'aria sento che che ci siamo che che siamo sempre più unite con più autostima e che ci facciamo coraggio le une con le altre senza ovviamente mai schiacciare i nostri maschietti che non siamo poveri e poi un augurio anche eh e anche per la Sicilia che che ha un movimento paralimpico che sta crescendo anche per esempio qui a Palermo con Francesco Laversa che si dà da fare e settimana prossima incontrerò un ragazzo amputato che vuole eh iniziare a correre e e per me fare questo questo piccolo questo piccolo incontro anche come questa conversazione con te eh è un modo per cercare di mh trasmettere anche la la mia passione per lo sport paralimpico e cercare di eh far avvicinare quanti più ragazzi possibili eh ragazzi adulti bambini eh chiunque voglia quindi il mio augurio per per la Sicilia è questo che che possano uscire di casa e non solo andare al mare ma anche andare al campo magari a correre a farsi una bella cosa tutti i dolci buonissimi e le pizzette e tutte le cose fatte con la ricotta che vabbè che sono la morte abbiamo rovinato anche te guarda non posso da da palermitana da siciliana in genere non posso che apprezzare diciamo il il tuo apprezzamento la e quello quello che tu stai dando a questa città che è veramente tantissimo eh e non posso che ringraziarti per per avermi per aver accettato il il mio invito ora purtroppo dobbiamo avviarci in in chiusura eh è triste perché continuerei ancora tantissime ore con te però dobbiamo abbiamo anche altri impegni che ci aspettano quindi per per questo appuntamento con la rubrica di chiacchierando con Italia Accessibile chiudiamo con Martina Caroni con un grandissimo grazie è un grandissimo augurio per per i prossimi allenamenti per i prossimi impegni in vista di Tokyo 2021 sperando che questo virus non ci stia non ci rompa ancora per quanto di più di quanto ha già fatto quindi ti saluto e ti ringrazio ancora tantissimo grazie a te e grazie a tutti gli spettatori che spero non si stiano annoiati con le mie parole e e quindi a presto non credo proprio a Martina sempre un abbraccio da da Sabrina Longi da Palermo e da Martina Caroni sempre a Palermo per oggi è tutto vi vi aspettiamo al prossimo appuntamento ciao a tutti ciao buona serata grazie a tutti Grazie.